Con una delibera dell'Aggiunta del Comune di Ponte Cagnano-Faiano è stata chiesta la proroga con decorrenza dal 31 agosto per 16 unità impegnate in attività di pubblica utilità. L'invito è rivolto al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, di chiare il Sindaco Giuseppe Lanzara, e all'assessore regionale al lavoro affinché prendano in carico questa situazione, effettuando una proroga alle nostre 16 risorse. Resta in dubbio che così facendo non solo avremo facoltà di riconsegnare loro la speranza di un futuro dignitoso e sereno, ma avremo l'occasione di dare continuità ad una serie di servizi fondamentali che diversamente andrebbero irremediabilmente perduti. Prima di questa iniziativa, attesa al prolungamento delle loro attività, i dipendenti e ex percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito, che forniscono un supporto quotidiano nell'erogazione dei servizi al cittadino, negli ambiti della solidarietà, del giardinaggio, degli interventi stradali, della prevenzione e dell'arrandaggismo, sono stati ricevuti dal Sindaco di Ponte Cagnano. Ed è dunque necessario, secondo Lanzaro e tutta l'amministrazione comunale del capofila dei Picentini, conservare l'attuale dotazione delle 16 unità impegnate nelle attività di pubblica utilità.